Presidente Serracchiani, l'Innovation Forum ha avuto grande successo. La proposta che lei oggi ha lanciato all'Ambasciatore degli Stati Uniti è quella di renderlo un appuntamento fisso, sistematico, annuale. Sì, devo dire che è stata una proposta raccolta molto volentieri dall'Ambasciatore. Ha apprezzato gli incontri che si sono svolti in questi due giorni a Trieste, anche perché è stata l'occasione davvero per creare il collegamento ideale fra alcune importanti università americane. La presenza di Stanford, della Georgetown University, dell'MIT di Boston ha permesso al nostro sistema regionale delle università di avere davvero collegamenti importanti per delle collaborazioni future. Dall'altra parte abbiamo fatto proprio un focus importante sull'innovazione, la tecnologia, il trasferimento tecnologico e ovviamente anche la presenza di Area Science Park, dei nostri poli tecnologici, delle tre università ha creato insomma le condizioni davvero di un'ottima collaborazione. L'obiettivo è quello di fare appunto di questo incontro un incontro fisso annuale che permetta però anche di farci conoscere per diventare attrattore di investimenti. Questo territorio ha non soltanto importanti sedi di aree di ricerca, di sviluppo tecnologico, ha importanti aziende che vanno in quella direzione, vuole diventare anche il luogo nel quale si possa parlare di Big Data, di ICT, di sviluppo tecnologico, insomma mettere in condizione le nostre imprese di competere con il mondo. Oltre a questi temi specifici nei colloqui bilaterali è emerso un interesse da parte degli Stati Uniti per alcuni vantaggi competitivi del fluo di Venezia Giulia, tra questi anche le caratteristiche delle franchigie del porto di Trieste. Beh, indubbiamente da quando stiamo facendo un investimento serio, non soltanto diciamo pratico nell'attività portuale, ma anche di marketing del porto di Trieste, stanno apparendo tutte le potenzialità del porto. Insomma il punto franco è noto da decenni, ora sta diventando veramente la nostra, può diventare la nostra no tax area. Anche perché in questo punto franco si può non soltanto svolgere attività portuale, ma anche attività logistica, e questo permette oggettivamente di pensare ad insediamenti industriali di grande importanza. Ambasciatore Philips, lei ha giudicato l'Innovation Forum un'eccellente opportunità per migliorare le già ben consolidate relazioni tra Stati Uniti e Italia attraverso il fluo di Venezia Giulia. Ora l'obiettivo è quello di rendere l'appuntamento dell'Innovation Forum sistematico annuale. Questa idea è una idea positiva, si tratta di uno scambio di informazioni per le imprese americane che sono interessate a comprendere la realtà del fluo di Venezia Giulia e a capire che cosa ha da offrire il fluo di Venezia Giulia. Infatti soltanto grazie a degli incontri poi sarà possibile avere degli investimenti seri e concreti nel fluo di Venezia Giulia. Come ho detto, la Presidente della Regione ha svolto un ottimo lavoro a favore della Regione. Io sono lieto di essere qui in particolare perché questa è la Regione da cui viene anche il mio bisnonno, che i miei bisnonni venivano da due paesi che hanno lasciato nel 1902 e che andrò a visitare. Sì, è parte del nostro lavoro all'Ambasciata. Noi vogliamo creare contatti, favorire investimenti italiani negli Stati Uniti, investimenti americani in Italia. Questo è possibile soltanto se c'è un buon scambio di informazioni. È necessario realizzare un forum e portare le persone in loco. e portare le persone iniziare a sviluppare le opportunità per investimenti più. Ma è un'occasione? La Commissione è 100 anni.